Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a noi, io sono Leon e oggi faremo una challenge con la pizza. Dovremmo pescare degli ingredienti a sorpresa e mettere sulla pizza. Vediamo chi farà la pizza più gostosa o meno buona. Eccoci qua ragazzi, abbiamo preparato gli ingredienti. Qui c'è il tavolo con tutti gli ingredienti e qui invece ci sono le pizze. Queste sono le pizze, sei pizzetta a testa e mio fratello Achille. Abbiamo di pari patto, abbiamo deciso che la salsa la mettiamo di base e anche la mozzarella. Ora prendo un cucchiaino che è già qui. Alla prossima! Alla prossima! Ok, ora facciamo carta sasso forbice per chi pesca per prima Pesca te Isa, prendi uno, prendi uno, prendi uno, prendi uno, prendi uno, ok Ok, vediamo Isa se hai reso leon fortunato Tonno Mio fratello ha forcato tonno Non è che sia così tanto buono Ma mi passiamo forcato per favore Che non l'abbiamo tolto dall'olio ma lo prendiamo direttamente Ragazzi ci siamo dimenticati di dirvi una cosa L'oggetto che pescheremo possiamo decidere se mangiarlo o metterlo sulla pizza Non tutte e due O mangiarlo o metterlo sulla pizza Ora toccate pescare Chiudi gli occhi Non tenere mano Non fordete Oh Guarda Pepe No Bresaola dai Ti va sempre di fortuna Guardate Bresaola cos'è? Sì Li mangio una e l'altra la metto sulla pizza No non puoi far tutti e due Dei scegliere Metti sulla pizza Carciofine? Buone Meno male che è capitato a Leo Mi piace a me le carciofine Hai ancora le mani oleose? No Carciofine No che ti sporchi tutto d'olio se ti si apre Sì Mangierà Ok Tieni Decidi di mangiarla Decidi di mangiarla Ma Ma ti ancora mangiarla Ma Mi piace Ok 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 Sporca Ah Ah Carciofine Sì sì l'ho vista Cos'è? Cos'è? Come cos'è? Camorza Mmm È un tipo di formaggio sì A me a me niente di male fino adesso Questa Ma io dei piselli e di queste cose Attenzione che ti casca A me non mi piace proprio il formaggio Mamma sembra quella la mozzarella Sì infatti metti un po' dappertutto Non si distingue Ma c'è un'ora di brusola Basta Come basta? No Ancora un po' Vuoi decidere anche se mangiarla Puoi decidere se mettere anche da un'altra fetta Oh ragazzi Basta Ok toccate leon Buoca 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 Pesco Oh Salsa L'abbiamo già messo Ah sì è perché avevamo Ripesca Via Scusa Ehm ma tutto è a te Per fortuna che sono eliminati perché non mi piacciono Tieni C'è il cibo e il biglietto Sì sì Io li mangio Ancora non li metti su Mi piacciono Eh ma metti su la pizza No perché poi diventano magari non buone sulla pizza E poi posso decidere Perché Perché voglio fare una pizza buona Ecco Sì a me lo faccio Attenzione Le verdure si devono Le verdure si devono mangiare perché fanno bene Esatto Non che li metti su una pizza Poi diventano non buone Non li mangi Cos'è Fa vedere Buono Perché fai così Oh no io lo mangierei anche questo Io lo mangio Occhio Guardate Io lo mangio Si vede mamma Più o meno Allora fai vedere meglio Sì sì ma ci fidiamo Cos'è così Ah li mangi Sì 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 Juan Deve mangiare tra Sì 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 essa Mescoliamo E Pestiamo Da qua non si vede niente Ho guardato fuori ma non si vede niente provolone, provolone, questo che ti dicevo, voilà, no, mi fai sentire l'odore, che schifo, mi vien da vomitare, ma non è vero, dai, ho deciso di mangiarlo come a me che faceva, no, no, schifo, ma tiro sulla pizza, fidati, che è meglio, mamma, questo ti ama, 1, 2, 3, 4, 4, petto di pollo! Olive, ma perché, ma perché olive? Perché? Le olive sono... Io le mangio così. Ma no, aspetta, le mangio io. Dai, le mangio così. Buonissimo. Mamma, 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 ti sei mangiato i pomodori? A me scemi? No. Ma scusami. No, guarda. Mamma, questo è troppo buono! Perché non li metti sulla pizza? Non stanno bene sulla pizza. Certo, che stanno benissimo. Ok, e tu com'è? C'è la pizza? Sì, tocca a te. Non mangiavi 3 o 4. 3 o 4? Aspetta, si hanno dimenticato. 2, oggi. Si, vede? Un po' sfocato. Cos'è curcuma? Formaggio. No, spezia. Però fa molto bene. Guarda. Ma è brucia? No. Cioè, io lo vorrei assaggiare. Ah, te lo faccio aprire io. Lo devi mettere sulla pizza, non puoi mangiarlo così. No, no, non puoi così. Lo metto io. Poco ne metto. Vediamo. Su questa che... Quella la metto. No, così poco, ancora un po'. No, no, no. Ancora un po'. Devi metterlo obbligatoriamente, Taki. Ancora un po', è pochissimo così. Fa anche bene. Ah, ok. È aperto bene. Vai. Dai. No, no, no. Dai, no, non puoi... Non puoi rifiutarti. Va bene, tanto deve dare tre morsi. Deve dare per... Basta o no, basta o no, basta o no. Ok. Ho detto, ho da dare, sono praticamente schifo. Oh, mio Dio, mamma. Tocca a te, Leone. Ti prego, Dione. Un ingrediente. Cipolla, 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 cipolla. Prosciutto! No! Però il prosciutto è buonissimo sulla pizza. Su dove ne posso mettere? Gorgonzola. Oh, mio Dio! Beh, dai, è un formaggio. Oh, mio Dio, gorgonzola. No, 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 non ho ancora qua. Via! Aspetta. Io mi sposto. Devi aiutarlo ad aprire. Ma chi annusalo e... No, senza annusarlo. Lo metto su di ritorno. Capi bene? Sì, guarda, è ancora appiccicato. È va bene, tieni. Non lo metti più a te, le sue, 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 le sue. Come? 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 no 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 che bella metti sulla pizza fidati sulla pizza non la senti neanche anche non far vedere la lingua che schifo mi dispiace ragazzi mi sono andata a risciacquare la bocca perché forse è la prima volta non me lo ricordo ma secondo me è la prima la prima volta di cosa? di aver assaggiato a gorgonzola ok ti è piaciuto tantissimo? avete visto quello che l'ho sputato per terra? gli abbiamo dato un'altra chance a chi toccava? e lui ha fatto, tocca a te non è mai esistito dai fa vedere sono i piselli? sono i piselli? va a vedere sono i piselli? si fammi vedere è speck guardate leggete speck i piselli siiii no mi va adorare il naso dell'odore buonissima sei stato fortunato si si piselli parla tieni 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 mi va adorare il naso dell'odore buonissima sei stato fortunato come me sulla pizza poi magari non la mangi cosa fa? no no dai dai ti rastro dai se becco un ingrediente buono mi arrabbio mi arrabbio speck Maionese. Guardate ragazzi. Scegli di mangiarlo qua, così, o sulla pizza. Io farei... no scherzo. Io proprio no. A me non mi piace proprio no. Secondo me la sfuterò ancora. Oh no, allora la metti sulla pizza, non ti posso dare un'altra possibilità. Panna. Io me ne vado. Panna. Panna. Sì, questo è un panna montato. Prego. Prego. Prego e ti metti la panna. Ma cosa stavo dicendo? Se ne sta approfittando. Io ragazzi la mangio, non posso. No, no, non puoi mangiarla così. Non posso neanche mettere sulla pizza. Sì che puoi. No così. No. Dai, prova sulla pizza. Con i piselli. Si abbinano bene. Vai. Vabbè io non sono a chiedere quindi ne metto ancora. No, ok, ok. E boh, adesso lo dici. A chi pesca. Spero che becchie il peperoncino. Pepe nero. Guardate. Ragazzi, pepe nero. Portigliella? No. 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 Vieni, fai sulla pizza che non ti piace. Ma io non la mangio quella fatta. Dai vieni. Te ne metto un ticatino. Dove? Metto io, metto io. Ma no, fai qua. Dove vuoi mamma? Non l'hai messo a chi? 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 Sì, dai. Non l'hai messo a chi? Non l'hai messo a chi? Non si vede. Leon, tocca a te. È una specie di polvere, Leon. rosmarino oh yeah sulla pizza rosmarino ti piace questo è una fatta salva io ce ne ho due salve mamma io devo togliere un attimo questo perché non posso metterlo sopra ma lo vuoi mettere proprio lì sotto si faccio che esce tanto e in questa pizza buono ma qui c'erano cose buone non so qui c'era anche questo ti piace tanto è buono è ingredienti speciale il rosmarino sulla pizza ok atto a te no è un altro quello è quello sopra rosmarino guardate io pesco non ti prego di oltre che pesca in inglese non buono panna montata scommetto provi se va vero va giusto io me la metto quante ne vuoi no quanti ne vuoi no quanti ne vuoi che fai il tortino è andato via anche l'ingrediente migliore toccatelo pesca ancora no basta ancora no ne avevo dato un po' via ma uno ma dai origano origano buono dove è mamma questo io non c'è buono l'origano metti qua che non c'è niente questo c'è il formaggio è buono il rosmarino sulla pizza quello è origano a me piace tanto ma con cosa si va la pizza con il rosmarino o con l'origano di solito con l'origano questo è origano o con l'origano ancora? dai che il forno è caldo e vabbè dobbiamo finirne ancora poche toccate Achille mi dimentico sempre sì 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 va bene senapè 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 non fa schifo? molto la senapè non si sente dall'odore si sente dal sapore dai dai mamma questa fatta non la mangio devi dei tre morti ma ui ma è scaduta no no tocca a te Leon 2020 scaduta? no che anno siamo? 19 oh oh ti prego ti prego pancettini pancettini non sono ne ne hai uno no non tira niente visto che prima non ho accettato il mio schifo pancettini ok intanto fermo no fermo vai vai intanto che tu fai lui pesca su che dobbiamo metterli è tardi raga si non mi importa crudo 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 ti fa un cittadino e non ti do questo io le mani tutto agliose poca e poca cos'è Leon? perchè non stai leggendo Leon? peperoni buono Leon si buono peperoni e tono van bene ma anche con la pancetta va bene o anche da soli da soli io cioè da soli in una fetta di pizza? no da soli mangio ma no metti lì che son buono aspetta la forchetta devo fare ancora tutto la forchetta? dove è la forchetta? non ti danno i piselli non da mano pecorino 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 tieni Leon pecorino eccolo qui è questo pecorino? no pecorino è questo tieni no no con la mano prendi con la mano ne metti tanta se no no tu hai preso il pecorino ma tre ma tre o quattro quattro tre quattro tre mancano ancora due qua sì cipolla è mentale è mentale ok prego ma quale sono le fate? prendi tu Achille intanto leone ma miseria mettilo sulla pizza cos'è Achille? cipolla cipolla buona lo mangio no così? sì ma chi può facciamo cambio ti metti mettici quella la cipolla a me ma con quello che si fa le piadine eccetera no facciamo un cambio? sei un animale? facciamo un cambio no ma che facciamo un cambio? ma poi chi pesca? io cipolla mentre a me a voi non c'era mai lei ha mangiato l'emmental facciamo proprio scherzo e Achille hai mangiato uno? perfetta oh io non vi ho visti che ho ricevuto una chiamata ma mi dite la verità? io giuro sull'amice che l'ho mangiata anche io l'ho mangiata anche io l'ho mangiata l'emmental perché ridi? ho mangiato l'emmental perché ridi? ho mangiata l'emmental dai l'ultimo biglietto non riesco a mangiare l'emmental hai detto che l'hai mangiata? ma lo faccio io no no è di leon no è mio è mio ma c'è non ne manco i tuoi ingredienti? eh non lo so non hai fatto uno te? sei fortunato dipende se rimane il peperoncino il peperoncino ti piace anche dai veloce 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 speck a chiedersi becca il peperoncino fa vedere? speck a chiedersi becca il peperoncino ma sai perché non c'hai il biglietto? perché ce l'ho sapesse hai fatto il furbo? hai parato vuoi tanto te lo bacchita? no te lo bacchita vieni vieni qua della pizza vuoi decidere se darlo un po' a me però anche te oh ok è buono con il suo pezzocchio? ok io lo metto qui che se cuoce tanto diventa bacon il bacon è dun buono veramente ragazzi io lo metto qui per abbonire qui hai fatto un fiore? un po' il manto no scherzo no mangiate no mangiate no vediamo aiuto mettilo più sotto attenzione no non lo vuole attenzione vai vai ok ci vediamo fra un quarto d'ora 20 minuti ok ragazzi le pizze sono pronte intanto off camera abbiamo assaggiato delle pizze ora iniziamo l'assaggio lui ha una pizza margherita non mi è venuto in mente a me di fare pizza margherita ora ho fatto da questa se è fresca com'è? si capisce si capisce si capisce com'è però ne mangiamo dopo assalga un morso ciascuna di più eh questo è uguale questa uguale uguale io ho assaggiato quella ok fai una cosa assaggio questa che non ti piace per primis almeno te la togli dalle scatole e noi la mangio lo assaggi un morso ciascuna fetta due erano due e fate uno intanto aspetta dobbiamo preparare un attimo chiede assaggio questa col tonno vai ora chiede vi date un morso un altro dai come? come? è la cosa di buona dai la cosa di i miei no si 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 questo è un altro buono che non è di giustante è vera 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 questa com'è questa com'è discreta 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 com'è buona 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 e tu? iso si 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 quelle che scartate le mangio io questa è scappata scartata ok la mangiata ciao ragazzi ciao aspetta io assaggia questa e questa assaggia vai questa è uguale all'altra quindi assaggia quella lì no perché a questa ce n'ha due cosa cambia non lo so buona questa e poi chiudiamo prima dico il risultato poi chiudiamo ok devo assaggiare questo che è la brisola tu leone le hai assaggiate tutte? sono buone? 8,9 perché c'è questo con il formaggio tutte buonissime tranne questa che è la più stessa e tutte le mangiamo ciao consigliate questa challenge? si per chi vuole provare un 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 gusto schifoso a volte anche buono io consigliamo ciao alla prossima buon appetito buon appetito ciao ciao buon appetito ciao 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 ciao